Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video Ragazzi, dopo l'evento di ieri sera, l'evento Big Bang, dove è partecipato anche Eminem come figura Siamo qui per il capitolo 5 di Fortnite Hanno appena riaperto il server in questo momento e io sto entrando Come vedete ho 31 minuti di attesa, bellissimo Fortnite Come sempre, noi ci vediamo quando mancherà un minuto più o meno Signori, eccoci qua, per voi sono passati pochi istanti, qualche millesimo di seconda Per me è passata una mezz'ora intera, però eccoci qua con l'entrata in Fortnite, se Dio vuole Accesso in corso, finalmente Una lunga mezz'oretta, ragazzi Comunque possiamo notare che, sì, è confermato, ci saranno sia i Lego che i Rocket League Ma i Rocket League l'hanno già messo una volta, perciò secondo me è uguale come storia Secondo me hanno messo semplicemente qualche macchina Comunque adesso entriamo, connessione in corso Probabilmente alcuni di voi hanno anche già iniziato a fare qualche partita Perché a me è andato, appena ho visto il server online, ho schiacciato Mentre altre persone sono entrate anche mezz'ora prima C'è per esempio adesso farò la prima partita con un mio amico Michael Che inviteremo più tardi Lui è dentro già da mezz'ora buona, cioè è dentro da moe Quando io ho finito l'aggiornamento che mi dava Cyber Offline Lui, a lui poteva entrare Perciò non lo so Vabbè dai adesso se mai vi... Ah no, sento il rumore, eccolo qua Signori Prima skin del pass E introduzione del capitolo 5 di Fortnite Perciò non lo so Sì comunque adesso Questa parte qua comunque riscatta Ah! Cos'è che mi danno qua? Ah se... Ah così, 200 VBAC Così a caso... Va bene, così a caso Vabbè Non me lamento ragazzi, io non me lamento Un altro firmato di introduzione Madò che grafica raga Probabilmente per voi è un po' sgranato Probabilmente per voi è un po' s destinato Abbiamo la tua banana No Underground underground si possono modificare le armi signori movimenti rinnovate, possiamo scalare il doppio muro possiamo scalare lamborghini, assurdo ragazzi rampini c'erano già ok peter griffin palestrato, assurdo signori, tanta roba, da qua è tanta roba però adesso andiamo a spoilerarci subito il negozio oggetti cosa hanno messo? allora abbiamo ancora ok eminem abbiamo ancora no no vabbè raga no mi da quanto che non vedo certe robe armadiette l'hanno modificato l'hanno 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 come funziona emote eh l'hanno si cos'è chitarra cos'è non lo so auto mi state no mi state seriamente a di che abbiamo le auto personalizzate che figata c'è come su rocket letteralmente strafigo strafigo ah è qua semplicemente schiacciando mi porta negli slot personalizzati vabbè ci buttiamo questo no che è? ah ok beh hanno cambiato un casino anche qua pass battaglia non è più passo g come avete visto lei che è la prima skin che ci hanno dato ci prendiamo subito vbac ovviamente cioè ok la versione modificata di questa hope oscar una tigre elegante tipo mafiosa no? versione modificata bianca più figa secondo me jones ovviamente non può mancare nel nostro pass jones versione cartone rimato ma questo qua potrebbero risparmiarselo secondo me nisha ok nisha modificata un po' chi è lui montague eh è tipo anche lui una specie di post mafioso ecco qua strano non saprei non mi ispira ma e ovviamente peter griffin signori guardatelo qua guardatelo con il suo piccone ovviamente non poteva mancare brian non poteva mancare like chi ha visto la serie qui chi abbiamo valeria eh ci sta comunque come skin secondo me anche le animazioni che gli ha messo ah pagina 13 14 abbiamo le auto abbiamo le auto stra figo raga che figo ovviamente questa è la più figa di tutte questa qua 100% raga e 14 ah un'altra un'altra valeria cos'è? ah si la sua versione modificata ci sta come pass ci sta strana la roba delle macchine bonus ok beh semplicemente cambieranno un attimo i colori eeeh che gentleman ok e le macchine di nuovo qua preferisco sempre quella la di prima ah e qua dov'entranno più avanti ci sta ricompense in cariche abbiamo lei oh figa però così comunque ah un altro john ma vabbè vabbè assurdo raga eh eh questo qua è la skin apart che boh ci sta ci sta mai vista vabbè adesso signori come prima cosa andiamo ad invitare il nostro caro amico che doveva entrare ieri sera ma però fortemente gli ha dato un'ora d'attesa perciò si è collegato alla live eccolo qua vediamo il messaggio attento che parte il microfono assurdo eccolo qua come va? va bene va bene lui vi ho già detto ha già fatto un paio di partite e adesso andiamo a guardare come com'è che vedi questa nuova season allora mi cioè è carina si però è difficile giocarci dice? nuove tattiche nuovi movimenti nuove armi un po' eh piano si si capisce ok adesso io alzo un attimo con la impostazioni di grafica beh il di grafica è molto bello dice? si si non è come le altre ok beh adesso ce lo guardiamo un attimo trailer assurdo secondo me comunque come introduzione si non è male non è male per cui stommi quella mezz'ora che mi sono dovuto fare però è scandaloso ho deciso ok un attimo di lag ma ci può stare un attimo che il computer riparta se vedete un attimo scatti perché sto scattando anch'io ok son partito beh grafica posso dire che effettivamente si è eh 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 comunque se vedi i movimenti c'è il corpo è molto più fermo mmm è vero è strano è fermo il busto proprio eh devi un po' devi un po' abituarti a questi nuovi eh ci sta ma comunque riguardo a prima le Lamborghini ci sono ok ok e eh c'è anche quello che ti puoi rappicarsi i muri che dicevi ok incarichi partita possiamo scegliere gli incarichi partita si eh sono delle missioni effettive ci può stare un po' come un po' come classificata ma io proverei sto punto ad andare in una zona tipo qua vicini al treno ma non è molto una trapputata raga comunque ho notato che spesso le gente vada e ci sono i boss ah ok e i boss com'è che possiamo vederli dove te vai che sono eh eh i shimui sulla mappa ah ok ah si è vero si 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 ah c'è anche il treno in movimento sulla mappa figo figo si raga comunque se vedete ogni tanto a scatti è perchè scatto anch'io dovete tagli un attimo perchè ci sono i server strafieni e di conseguenza si ma è anche la mappa che è bella grande è un po' più grande dell'altra e le grafiche ovviamente sono aumentate devi caricare tutto eh direi anche il fatto che ogni gioco in genere quando pubblica con una grafica migliore agli inizi è sempre messo un po' si deve un po' prendersi ma quella lamborghini che sei qua sotto eh no non è una lamborghini cos'è no 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 è ancora quella vecchia in teoria sono verso il centro questo track qua strafigo blindato cento gente che arriva ma hanno messo la bici anche se non lo puoi guidare comunque d'estetica ci sta ma anche c'è un team sta ancora in volo però allora qui mi avevi però per le armi per dire è più facile mirare ora che hai nuovi mirini c'è da lontano grazie grazie ma perché è rosso cosa per esempio è diventato rosso non so evidentemente un bug una roba simile non lo so allora comunque sì effettivamente strafigo qui abbiamo come per esempio come arma da quel che ho capito ragazzi le armi sono tutte diverse a livello di mirini di estetica per esempio questa mitraglietta qua ha un caricatore più lungo questa mitraglietta qua caricatore migliorato tipo nei bunker che ho visto prima puoi trovare delle armi che però sono magari possono essere uguali però sono personalizzate diversamente sì per esempio qui ho uno scar scar leggendario raga prima apertura della cesta questo possiamo vedere come su worldzone che abbiamo le varie cose in alto così è migliorato ho uno scar grigio con la canna allungata perciò secondo me spara più lontano un attimo più stabile sì infatti perciò migliore per sparare però lo buttiamo giù perché è grigio questo scar invece eeeh sì dai vabbè io ho appena trovato lo scar quello con col mirino eh questo qua c'ha il mirino ma che figata ma tu non puoi capì vecchio c'è il è pure io c'ho è quello con la frecetta no è quello che ha tipo un indicatore strato prova a mirare dopo di dammelo ma è fatta come quella di ah capito però strafigo caricatore ci sta dopo proviamolo granata aggrappolo appiccicosa hanno modificato pure la granata appiccicosa sì no è diversa questa guarda prova a tirarla eh però occhio non tiratela vicino eeeh vabbè è rottissima faccia male questa qua gliela tiri in un box a uno invece lo ammazzi fa tipo 20 milano colpo tipo meeeh impulso elettrico l'hai già provato l'impulso elettrico eeeh rimuove è quella lì per terra ma è quella che ho in mano eh ma è quella che c'è anche lì vicino per terra eh occhio che c'è gente aspetta prima andiamo dove va la testo su della gente aspetta aspetta ho provato oh cosa l'ho terrato come una granata di quelle la ma fa malissimo riesci a fartelo che quella sporca vacca vecchio c'è uno t2 sono collegate bestia te guarda che qua c'è una oh un altro assalto ovunque vediamo un attimo questa o quello che ti ricevo prima guarda questo qua c'è il mirino come cecchino ecco guarda ecco guarda questo vabbè questo qua cos'è fammi un attimo qui ah eeeh queste qua ti danno uno scudo ci sta aspetta to vediamo quali queste qua queste qua si ti danno uno scudo sono tipo come i funghetti ah e si le puoi fare mentre corri ci sta si ma ho tutte le cure medgit eeeh ok la safe si ferma qua vicino non viene da noi comunque quella di in teoria oh c'è il treno c'è il treno c'è il treno c'è il treno proviamo ad andare a vedere vediamo se riesco ma puoi stare il treno qua si 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 ma vediamolo il signore dovrebbe essere qua sotto lo sento si si tra poco posso avrete qua in teoria da quanto capisco vediamo dov'è dove devi conquistarlo ah ecco lì è serio è in teoria si devi conquistare il treno provo a salireci provo sai passo esattamente sotto il me e io m'ho costretto un attimo una migrata oh c'è uno c'è uno c'è uno l'ho visto no più uno ho atterrato uno il compagno è rimasto indietro ok io sto sul treno è pure io sto dentro strafigo vecchio oh no ok ma eh questo è un cecchino strafigo prendilo vediamo com'è raga il treno comunque sta dinamica del treno oh c'è uno c'è uno qua oh dio è vero non puoi build arco ma no è un pollo ma ma è scienziato sto cosa ma cosa c'è questo ma cos'è sta roba ah perché ora stiamo conquistando il treno in teoria stai prendendo la cesta si è la cesta principale che figata no mi sa di no perché qua è chiuso in teoria ma qui no ma c'è un dubbio merda c'è uno qua eh l'obiettivo merda qua che ti resta eh io ho 3 di vita perciò scusa ma il medic me lo tiro io il treno si ferma alla stazione eccolo nooo però però sto tipo mi ha risolto un dubbio quando muori la schedina non resta sul treno ma resta nel punto in cui sei morto perciò anche se il treno si sposta è un po' eh però in realtà è buono tu perchè se uno muore sul treno non devi farti i chilometri per raggiungere il treno si esatto e prima mi è venuto stupio per le armi poi devi essere stra bravo quando c'è gente sul treno perchè non puoi costruire questo qua ha costruito però sul treno cioè riesci a costruire ma non non tanto cioè il treno si spacca dopo ah ok eh perchè ho provato anche io prima ci sta ci sta beh comunque questa dinamica del treno è strafiga ma cioè no cioè ti distrugge cioè perdi ah io adesso voglio vederla classificata perchè già è difficile giocare così più si dai danneggia i giocatori nemici con un fucile a pompa a martello distrugge oggetti la situazione candidi e guida diversi tipi di veicolo eh simone ci può stare perchè proviamo ad andare boh da qualche boss o eh boss ci sta a rotaia rischioso non puoi andare qua tipo no a sto punto andiamo qua che vedo che c'è un simbolo proviamo vedere cos'è quel simbolino lì è lontano ho trovato ma ciò prima serio? non hai trovato nulla? no c'è il boss ah proviamo vedere che boss è a cosa ti da mmm non lo so però interiati da un assalto non ci sta ma comunque possiamo notare che metà mappa è nevata e l'altra metà è verde però ci sta un troppo ci sta il treno non me l'aspettavo però quando ho letto che c'è il treno ho detto no è impossibile ho detto c'è una cosa che non è stata fatta all'interno di foto ma in realtà proprio all'interno di videogiochi che poi se ci pensi cioè è letteralmente Wharton è vero se ci pensi il treno con le armi così mirini e tutte le cose modificate eh esatto e ci sta è strano e ci sta grafica vabbè per essere forte ammettiamolo e beh io aspetta solo lego no il 7 il 7 il 7 dicembre il 7 dicembre esatto che figata ma lei mi sono sentato ma qua ma questo villorale qua ci sono delle casse ah però ti vuoi incastruire la neve boh insomma dopo provvedere se ti dici sicuro ho provato uno scarco con il caricatore tv ma va eh 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 ho il bosco a michael sono entrato in dentro a casa c'è vuol bossi davanti è iniziato attivo mi ha tirato tipo un push no io non ci credo c'è tipo la cassa dentro ok no c'è c'è troppa gente c'è troppa gente c'è ci sono tutti botto ma mi stanno facendo eh eh oh guarda dove c'è la rain guarda dove la cassa dov'anno guarda nooo 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 questa roba proprio da fortnite cavolo che pompa è questo vediamo qual'è che fa miglior danno guarda che oh ehm l'interia c'è un po' solo però quel pump lì è fortissimo no c'è su tutti io l'ho provato prima qual'è ehm io ho trovato uno l'inventario non l'ho mollato giù è lungo tipo quello che ho io ora l'inventario sia lungo ah ecco interia quello lì ehm fa una cosa come ah e questo è il secondo po' l'ho messo l'ho messo ma è il cimitero o questo? non lo so comunque il pump è quello che hai detto è ehm io l'ho provato prima e il verde da vicino fa tipo 180 ci sta cioè ma verde no blu ma qua mi fa verde fa ma mi fa che fa 89 qua oh ah vabbè se non gli piedi per ehm quello in corpo 89 ci sta in testa quindi fa un casino eh per due 160 proprio cioè praticamente con due colpi ti ammazza c'è ehm è letale letale esatto ok un altro scar ci sta mirino diverso ma comunque devi stare sento al boss al mi hanno fatto mi hanno pe eccolo dov'è? è il boss oh vieni su vieni su no eh devo imparare un po' il movement che inizi da solo scavalcare ok ok i bot hanno la vita delle persone hanno la vita di un player eh questo è un boss si è un boss è un boss è il boss dov'è? uh ma di tutto vai vai spaccalo spaccalo oh ma sei curato morto morto c'è da fare i bot rimanete vai prendi ecco eh quella lì che hai aperto tipo la medaglia eh ti serve per il bunker ah sì ho visto mi sta guidando il bunker andiamo al bunker allora ah e non devi cliccare niente cioè devi ce lo mettere davanti vai vieni qua che chiudi tu ti devi mettere davanti e ti scannerizza chiudi dopo eh sto chiedendo un po' subito buon bravo bravo i bot in teoria non vengono fin qua nooo merda cos'è? ma? oddio dove sta finendo? no veci eh brutta idea eh brutta idea si perchè ora c'è anche la safe meglio che scappiamo brutta idea si non ho vita ah eh sono qua eh beh nooo cerca di venire qua che ti curo beh se ti sai cosa vengo qua vengo qua ah anche il medic che ti si fa mentre andiamo si ok ok ehm eh eh io non ho uno inizio a correre dentro è vero e con calma si fa mentre dai se ti sbrighi qua vicino qua c'è un ghiacciaio basta che scivoli e sei a posto ah i botto ok vai io son fuori io son fuori io son fuori io son fuori perchè avvo la bomba quella che ti fa imbalzare infatti consiglio di sbrigarti ehm mi sto facendo bene mentre continuo si può notare? no so c'è l'acqua? ma si 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 puoi notare puoi notare quindi non c'è più il danno d'accaduta anche se sei in acqua e io ho 18 di vita perciò spero di trovare qualcosa no ok 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 ti ghiacci ehm certo ma sei che è brutto ma sai che è brutto madò ma poi è già passata gente però io ho inizio meglio che ci avviamo adesso non hai venti, non hai nulla proprio da darmi no 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 ah da te ehm due mele mi accontento mi accontento buttamela oh no c'è c'è sif dietro porr allora dammeli dopo qua c'è il treno ma no prendere il treno è mortale prendere il treno è mortale prendere il treno è mortale riprendile riprendile che me le dai dopo meh mi veci quanto cazzo è veloce? ehm tanto se riesci a raggiungermi ho la ho la bomba ribalzina come si chiama qua si 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 la impulso si la impulso esatto adesso non vedo l'idea vediamo se qua ci sta allora comunque abbiamo visto che si può passare per i tombini allora eh eh esatto avrei la tentazione di prendere il tombino però no 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 non importa quindi corri corri qua corri qua alla macchina corri 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 veloci sali ah mi eh si dai hai il boost eh? hai il boost di che? c'hai il boost tipo accelerazione si music sinistro spe eccola vai vai siamo fuori siamo siamo chill ah no non è quella che non stavo no eh ma c'è qua adesso è proprio come come in macchina effettiva comunque starà figo che quando sali in macchina si modifica come la hai visto che comunque c'è l'impostazione che delle macchine eh dentro l'armadietto eh ho visto io pensavo che fosse che hai proprio le le tue macchine mhm infatti hai visto qua che appena sono salito si è modificato prova a salireci tu prova a salireci tu ah l'hai tenuta quella mia si ci sta però ci sta ah e lo shieldone adesso hai due secondi di countdown e eh dopo ma eh gente no ho lanciato lo scudone dove eh vai vai qua venga ok eh perchè lì mi è sembrato di vedere gente sai non c'è l'animazione che ho lanciato via lo scudone serio ti giuro oh ci sono i pesci ah l'ho vista buono ah questa qua rompe gli scudi chissà che magari riesco a la canna da pesca si è bugata la canna da pesca ok vediamo mi io spero io provo a pescare qualcosa che magari riesco a curarmi di un po' ma chi spari ma chi spari eh ci gente ah ok vabbè chill boh di nuovo tutta la vita dov'è che ha? ok eh qua eh è stra è facile mirare no con stromirino qua è stra facile grazie sei frocio ah per te lo intendete si comunque con stromirino qua che ho io del boss mitico quello lì che abbiamo fatto che ci siamo fatti prima è stra più facile mirare dov'è il tipo eh che ormai eh l'arma mitica del boss è eh fda gendarme montana no ma a livello di arma comunque cos'è? eh un assalto eh un assalto un assalto eh no c'è la jump sulla barca no ma questo ti magari è che si può guidare no no che figata cioè ma da quando uno secondo portale? vediamo come si vede hai proprio uno scudo eh non l'ho visto il primo che figata ma ti dà anche la pistola incorporata? si e in teoria puoi fare tipo uno scatto con quello lì vediamo da quanto ho capito ma ho sicuro carica ci vuoi le due prova ecco è le due mio nonno è le due fuoco a fuoco mira corri 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 oh prendi la jump prendi la jump hanno ributtato qua perciò non andare lì no c'è il cinema che figata ma no ma è proprio tipo la roba di Roma robe così tipo si no 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 ci sono stato dei pesci ah non hanno ributtato non è un reboot questo qua è tipo una cassa ma è vero ma perchè si deve tutto caricare qua ho cercato ci sono queste casse qua cosa ti ho dato? qua qua guarda c'è sta così qua cos'è l'iso volante cos'è? no c'era di qua è c'è un simbolo sulla mappa qua 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 non vedo nulla vedo il tuo ping no il mio è sì il tuo ping oh passa al treno occio che potrebbe lasciarsi giù gente potrebbe lasciarci è tipo un qualcosa di strano c'è 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 qua c'è il cinema ma quanta roba buona che hai lasciato è fatto tipo teatro romano questo eeeh no ma io questo qua verde starà buona la roba che hai lasciato però ci sta prendi gli scudi prendi no 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 ma vabbè ci sta allora apriamo quella cassa che figata aspetta 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 guarda no 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 eeeh la vedi c'è un'isola volante si è vero co chi è? ci andiamo ah eeeh 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 tipo le vecchie isole le vecchie isole con le coni punti di cattura ah che comunque c'è il cerchio il cerchio giallo si sta spostando verso di noi non so cosa è muoviti tipo un tornado comunque sarà figo comunque la grafica messo anche qua comunque guarda anche le montagne ma non è meccanica non sono male eh poi figo anche il fatto che ora c'è il dorso è difficile c'è gente là ah vabbè non vinga eccolo ma i miei spugli si sono nascosti oh qua ha fame no 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 le armi fanno troppo male si sparano ah non c'è chinocchio però dovranno fare come su warzone che arrivano subito i colpi eeeh vediamo sta roba qua aver due secondi e poi si genera cacchio è vero oh c'è uno benissimo eh l'ho visto però hai colpo a salto ok uno a terra quello che c'era là è a terra oh hai così a salto che non ne ho proprio eh vieni qua ne ho pochi però eh tipo ho anche io che si stanno restando là dietro però io tento vai tentala io arrivo con calma perchè non c'ho io li ho tirato giù eccolo eccolo lì eccolo è lì occio no 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 fanno malissimo stimo sono scappato via ho scappato via oh ciò che lì ce n'è uno nooo ti ha ucciso lui non lo so muoio ma ma è ma è complicato ci sono in due ci sono in due e io ho preso anche i danni dalla tempesta devo ricaricare eh dio la tua posizione è nascosta che cazzo significa? non lo so vabbè fai tornare al lobby comunque raga per oggi è tutto adesso vedo di editare il video e se riesco a pubblicarvelo entro stasera o entro le quattro e mezza spero incrocio le dita dunque raga per oggi è tutto noi ci vediamo in un prossimo episodio ciao ciao ciao